ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale allora oggi come potete vedere dal titolo in un'altra location sto girando questo video di sera e sto sola a casa, sono sola perché il mio fidanzato non c'è quindi avevo voglia di girare un video anche perché a breve parto e non so se girerò dei video lì in Puglia oppure non so se farò rimanere il mio canale in vuoto per due settimane senza video smr io vedo se ci riesco caricherò dei video altrimenti non lo so mi godo le vacanze e quando torno girerò dei nuovi video adesso vediamo un po' allora io volevo fare un video in cui vi mostravo delle palette ovviamente non posso mostrarvi tutte le palette perché sarebbe un video lunghissimo perché io ho tantissime palette e adoro adoro tanto 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 le palette è una delle cose che più amo dopo i rossetti allora ditemi se vi piace questa postazione se vi piace come viene il video anche il modo di parlare se vi piace questa se vi piace la voce in questa stanza o si fa una pazza di manicomio ma i capelli li devo lavare quindi non vi preoccupate perché sono veramente orrendi tra l'altro sabato li vado a tagliare però lo sapete io vi faccio vedere vi rendo sempre partecipi di ogni cosa allora inizio a farvi vedere questa palettina qui che è l'ultima arrivata ed è la Naked Naked Urba di Gay It ed ha tutti questi colori caldi questi colori terra tipo terra trovo che questa palette sia bellissima io la sto adorando la mia preferita è la Naked tra tutte le palette che ho la mia preferita è questa qui al momento ma sto adorando questa tantissimo ma proprio tanto 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 e allora adesso vi faccio vedere io questa qui l'ho pagata se non sbaglio se non sbaglio costava sui 50 euro una cosa del genere ma io l'ho pagata stava 55 forse non mi ricordo ma io l'ho pagata 46 una cosa del genere 45 euro e sto morendo di caldo proprio in maniera incredibile tra l'altro oggi è stata una giornata molto molto stressante per me ecco qua bellissima ovviamente fatemi sapere come fatemi sapere se sentite dei rumori strani io sto nella mia stanza dei trucchi la mia stanza dei giochi no dei trucchi e questi sono i colori come potete vedere sono dei colori proprio stupendi qui ci sono dei marroncini caldi questi colori un po' perlescenti qua ci sono questi brillantinate che sono super super scriventi e qui troviamo colori più scuri ovviamente c'è anche il pennellino dentro quindi c'è veramente tutto in questa palette io la sto adorando adorando davvero e non me ne pento di averla acquistata perché è una delle palette più belle secondo me della che esiste ovviamente continuerò ad acquistare altre palette perché io l'adoro bella bello 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 anche il packaging mi piace molto poi vi faccio vedere diciamo le mie palette preferite diciamo un'altra che amo e questa è la mia preferita in assoluto è la Naked la prima proprio ed è stupenda a parte il packaging vello dato che è molto carino e all'interno è così questi sono colori che io amo cioè proprio i miei colori adoro da qui fino a qui li adoro tutti soprattutto questo sidecar se non sbaglio è il mio colore preferito in assoluto infatti come potete vedere è bello che ha scavato è stupenda la dovete avere assolutamente questa palette questi due qui io non li uso perché sono colori molto scuri anche questo questi tre diciamo non è che li uso quasi spesso perché non mi piacciono non è che non mi piacciono è che non li uso proprio io però questi qua sì quindi questa è la Naked 1 ed è bellissima questa qui anche stra usata andiamo ad una palette epica perché io questa palette non so per quale strano motivo però penso che voi lo sapete la Persi la trovai la cercai proprio in lungo e largo da per tutto ovunque ovunque ma non la trovai misteri della vita e quindi l'ho tra l'altro ci tenevo perché era un regalo del mio fidanzato vabbè e quindi l'ho ricomprata proprio come buttare i soldi così ed è la Too Faced ma nell'edizione Sweet Bitch è bellissima questa palette è assolutamente bella a parte il packaging che io trovo davvero davvero stupendo perché ha tutte queste peschine e le adoro non so se vi piacciono ma a me mi piacciono da morire tutte queste peschine qui e anche questa specie di colore che va un pochettino scemato dal più chiaro dal più scuro al più chiaro vedete è bellissimo l'odore di pesca si sente da qui io non l'ho neanche aperta e già sento l'odore di pesca che in realtà non mi piace però io questa palette l'adoro per i colori che offre che secondo me sono bellissimi bellissimi vedete soprattutto questi marroncini qui anche questo è molto bello molto molto scrivente e mi piace molto questo che lo uso come illuminante tutti tutti questi colori sono stupendi li trovo davvero davvero carini quindi questa qui è la Too Faced Sweet Peach è una delle mie palette preferite bellissima non mi ricordo quanto costa penso sui 45 euro o giù di lì ma troppo bella sto morendo di canto assolutamente adesso vi prendo una palette che è bellissima ovviamente tutta sporca perché non mi piace il modo in cui hanno creato questa palette perché subito si sporca questa è un'edizione limitata quindi non la trovate più ma è una delle mie palette preferite penso che se mi conoscete lo sapete sicuramente piace molto anche questa ha un sacco di colori luminosi un sacco di colori marroncini che io adoro adesso ve la mostro però questa qui è anche multiuso perché parte questo disegno stupendo di Parigi io adoro Parigi ci sono stata e lato e questa è la palette i colori mi piace perché li andranno tantissimo adoro questa palette è luce veramente questi colori questo 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 questi due li uso tantissimo perché sono proprio i miei colori preferiti poi qui abbiamo degli illuminanti e qui abbiamo una terra abbronzante che io adoro e uso e si chiama Sun Bunny ogni riferimento è puramente casuale poi abbiamo un illuminante e due blush uno un po' più malva e uno un po' più rosato e quindi questa palette è ottima anche da portare in borsa quando dovete fare un servizio mi serve una palette che ha tutto in uno ma anche per andare in viaggio infatti acquistavo quando vado in vacanza o che ne so buona parte che la porto sempre perché il fatto che ci siano anche le terre i blush cioè la la cipria bronzante blush e illuminante è un punto a suo favore secondo me quindi questa è la palette della Too Faced ispirata a Parigi ma peccato che non la faccia non più poi l'altra palette stupenda è questa è questa di Wacom questa qui è della linea Geisha Secret guardate ci sono io è della 01 tutti matt a parte questi che guardate sono stupendi adoro io l'adoro ho notato che ogni volta che mi trucco con questa palette tutti quanti mi domando mi dicono che ho un bel trucco non lo so perché ma ci ho fatto caso e quindi l'adoro tantissimo non penso che la trovate più però se la avete la dovete utilizzare perché trovo che è stupenda trovo che sia stupenda l'italiano è una lingua ormai sconosciuta quindi questa è la palette di Wagon della linea Geisha Secret un'altra palette che adoro è questa qui che il packaging è un qualcosa di subliminale perché è bellissimo ed è la Urban di Gay Naked l'Ultimate Basic Basics ed è questa fatta così che io adoro e la trovo stupenda a me vi devo dire la verità non mi piaccio cioè non è che non mi piacciono ma per esempio ho varie palettes matte cioè prettamente con colori matte ma non le uso perché non è che mi piacciono poi così tanto i colori matte io adoro io adoro gli ombretti brillantinati cioè molto molto look che sono molto luminosi che danno quasi quell'effetto glow ma questa è stupenda come potete vedere ci sono tutti i colori matte vedete sono tutti matte ma è stupenda cioè adoro fate i trucchi con questa fate dei trucchi che sono una meraviglia sono davvero bellissimi quindi io ve la consiglio vivamente questa palette questi soprattutto questi colori qui sono stupendi e quindi bella bella poi c'è anche uno specchio enorme che ha tutti questi cuoricini e poi è rosa questi cuoricini in rilevo e in pratica i colori ma lo stocane deve rompere le palle proprio i colori sono a forma di cuoricino e mi piace tantissimo questi c'è questo illuminante qua che è stupendo perché ha dei colori come piacciono a me molto molto luminosi però ha anche dei colori matt ero indecisa io quando diciamo dovevo acquistare questa palette ero un po' indecisa ma poi alla fine mi sono convinta e l'ho fatto bene perché sinceramente ne vale la pena è stupenda se non la avete la dovete acquistare o farvela regalare se potete bellissima anche questa sempre della Do Face ve le faccio vedere un'altra che è la Chocolate Bar Semi Sweet eccola qui questa è proprio a forma di cioccolata cioè di tavoletta di cioccolata questa è molto molto usata questi due colori sono strausati questa palette è una delle palette più belle guardate questo marrone è stupendo non ho capito cosa c'entra questo blu ma adoro questi colori qui sono veramente pigmentati e questo caramello bellissimo tra un po' bianco dall'emozione e questo qui è straordinario come illuminante guardate anche se lo metto guardate bellissimo mi piace da morire quindi questa è la chocolate bar semi sweet e troppo troppo bella anche questa qui in quella cassettiera vedete io la sto prendendo da qui in quella cassettiera lì ne ho altre e queste sono quelle che uso di più mostro questa che già ve l'ho mostrata in parecchi video ed è quella matt di elf ragazze la dovete avere questa valente costa poco costa sui dieci euro se la riuscissi ad aprire forse non ci riesco proprio ha tutti i colori matt e dal più chiaro al più scuro e questa con questa realizzate dei trucchi che sono naturali no quei trucchi molto appesantiti sono naturali e super che definiscono super 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 bene l'occhio e lo sguardo proprio ve lo intensificano quindi ve la consiglio questa se lo sbaglio si chiama matt vabbè voi basta che scrivete elf matt palette palette matt mi esce subito è stupenda ah si ecco come sono idiota eccola qui si chiama elf mad for matt bellissima troppo troppo bella soprattutto questo rosa questo color carne troppo bella sembrano pure quasi cremosi un'altra che vi faccio vedere questa è proprio simpatica perché qui dentro sembra un'argentina sembra un notebook diciamo e invece una palette di sefora costa sui 7 euro 7-8 euro ed è super super valida allora si apre così qui c'è lo specchio e qui è luce stupenda allora qui abbiamo un color panna questa è molto usata questa palette qui abbiamo un color panna qui un dorato e qui abbiamo un top metallico guardate quanto è bella stupenda e qui abbiamo un marrone che io a volte uso a modi eyeliner e qui abbiamo un blush e una terra bronzante troppo troppo bella questa la trovate sul sito di sefora 8 euro se non sbaglio ma guardate quanto sono belli i colori e poi il fatto il il punto a suo favore che ha terra e blush e quindi è studiato bene anche per portarle in viaggio questa qui poi un'altra è della essence costa sui 4 euro ed è quella bronze o la about bronze mi pare si chiami questa è strausata adesso vi faccio vedere come l'ho usata se la riuscissi ad aprire questa è proprio scavata scavata vedete tiene tutti i buchi ma questa palette è stupenda guardate con questi colori guardate stupenda mi piace da morire e l'ultima palette arrivata da poco è questa qui della mulac e come potete vedere è stupenda perché ha tutti i colori sempre molto molto caldi e mi piace questa è la daily mood e questa è la palette in questione ha questi colori tre colori shimmer quasi cremosi questo è quello che io adoro di più infatti si vede perché è quello più usato li potete usare anche bagnati e poi questi colori qui matt sono stupenti soprattutto bbq questo e questo della cotta bellissimo bellissimo e adoro questa palette è davvero davvero stupenda stupenda allora ragazzi io vi ringrazio vi mando un bacio enorme fatemi sapere se vi piace questa location se vi piace questa luce se vi piace il mio tono di voce come diciamo se vi piace in questa stanza l'effetto che ha il mio tono di voce nella videocamera e io mi vado a fare una doccia, ci vediamo al prossimo video ciao